Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Aglio e Firenzuola. Sulla FIPILI per lavori ci sono rallentamenti in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina e in direzione mare tra La Strassigna e Montelupo Fiorentino. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Su Raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!